Selezionate il boss del mondo avuto Ciò vuol dire il boss del mondo avuto Come dire, come dire il boss del mondo avuto Allora, guarderlo e sapere Vediamo se è un difficile Con i Whispy Boots Se vuoi arrivare al mondo di Whispy Boots Facciate il comune basso E se siamo giocati E se poteva bene Se poteva bene Di tutto Per cui vi stai pazzo Che poteva bene Hele Chia Ed è un giro Come sto Altra Vi passo una nave! Si! Vi passo la nave! Si! Chi lo fa sa! Chi lo fa sa! Si! Chi lo fa sa! 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 Perdiate il prezzo della nave e aggiungo il piacolo! è finito questo grande ma sempre facendo il nostro d'avversa ha il pilone di cazzo mille spero che riuscirai a trovare adesso le altre campi con tutti i te sono delle piccari che ci fanno anche la storia e la storia ci sono tutti i giacchi che potrebbero giocare con le tre piccini poi ci sono le stagioni della pizza e poi ci sono le stagioni di cazzo e poi ci sono le spide che si riuscita con le altre piccine se non lo so è ciò che mi viene e quindi io sono le spide e poi ci sono le spide Ecco, 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 ec Volete darci un uomo diverso? Il risalto d'ottero! Aspetta, biscotto d'ottero! Super sentito! Uno è il cibo e l'altro sotto! Allora, ci rivedremo con la prossima puntata! E chi è il più avvento di Wii?